Il Comitato per la difesa delle terre ioniche ha ripreso la mobilitazione a Serra Marina per chiedere la messa in sicurezza del territorio, la chiusura della vertenza legata all'alluvione del marzo 2011 e l'avvio immediato delle iniziative necessarie per scongiurare che le attività economiche e le aziende colpite dall'alluvione del 7 ottobre scorso tracollino definitivamente. Ieri il portavoce del Comitato Gianni Fabris insieme ad altri esponenti di terre ioniche ha incontrato a Roma i parlamentari lucani e pugliesi per evidenziare gli obiettivi immediati da raggiungere emersi dopo la nuova alluvione. I parlamentari si sono immediatamente attivati per contattare il capo del Dipartimento della Protezione Civile, il ministro dell'Agricoltura e i presidenti delle due regioni per valutare la situazione. Si attiveranno inoltre per un contatto continuo e diretto con il Comitato nei prossimi giorni. Nell'esito dell'incontro la delegazione di ritorno da Roma ha illustrato i dettagli questa mattina durante il presidio di Serra Marina. Il Comitato ha incontrato non solo i cittadini colpiti dall'alluvione ma anche le istituzioni del territorio. Non può verificarsi, ha sottolineato Fabris, come è accaduto la volta scorsa, che decine e decine di comuni della Basilicata e della Puglia si trovino inseriti nella nuova ordinanza del presidente del Consiglio soltanto perché amici, dilatando così all'infinito un problema che invece va circoscritto per individuare l'area realmente interessata e che ha subito i maggiori danni. Durante il presidio odierno sono stati distribuiti i volantini per ricordare le richieste del Comitato e denunciare la situazione gravissima che ad oltre due anni dall'alluvione del 2011 ancora una volta vede piegato il territorio. Si è ricordato inoltre che sono in programma altre due iniziative, la prima a Marconia in Piazza Elettra, domenica prossima alle 18, la seconda entro il seguente martedì in Piazza Aginosa.